Ecco, mio cugino Giuseppe Ruggeri, uomo da mille coraggi, super coraggioso, lo vedete che tiene in mano un serpente A sonagli, sentite, din 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 din, questi sono a sonagli Ma è tipo di serpenti? Questo è un serpente, praticamente in dialetto si dice sepposerina Ma non è venosa? No, però è dolorosa, come morso è dolorosa Ma come l'hai presa? Ora spiegaci come hai preso questa serpiserina Con le mani, assolutamente con le mani, noi siamo un corpo e un'anima Che coraggio del mio cugino, come la tiene in mano Però è abbastanza pericoloso, ci si deve guardare da questo Quindi lo sconsigli di fare alle persone espratiche? Sì, sì, assolutamente Bisogna avere una certa domestichezza con gli animali, con i serpentini I serpentini neri che abbiamo qui in zona vanno bene Questi sono i più camufiusetti Però come la stai tenendo tu, il serpente non muore Ripostate e tenerlo con il collo fermo Vediamo se possiamo inquadrare, guardate che è troppo vicino Mordi? Non è addestrato bene ancora Però come la stai tenendo non si fa male e non c'è il pericolo che morda No, 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 assolutamente, non c'è il pericolo che morda, non si fa male Ora sarà di nuovo liberata Casi poi un cupito di scuba Allora sfadiamo una leggenda Le serpe nere, le bisce in campagna servono, giusto? Assolutamente sì, anche queste servono Queste sono predatori di tutti quegli animaletti piccoli che in casa ci rompono i cosiddetti coglioni I serpe nere per i topi eccetera eccetera sono eccezionali Ora gli sta soffrendo assai e la liberiamo Ora sapete me parli? E come è una croce? Sono a munchiando, capiste? Va bene, liberiamo il serpentello e ringraziamo Giuseppe Ruggero, uomo da mille coraggi Uomo coraggio